Salute e buon venuto alla mia nuova Samenhof Amedito. E' la sceghe malfrue lunga, semmai fino. C'è una mia nuova Samenhof Amedito. Sperrebbe giusto tempo ci occupe la giusta tago che mi voli a legge. Quei e beh vedi coi chi ti ha fatto, su un kiel che ho portato in l'Atriga Congresso in Cambridge nel 1987. Mi è stato già pagato 30 settec settec. Cielo? Esperantiste convena in un'universale congresso. Questo è la domanda di Samenhoff. E io le rispondo. Mi convena a tutti i giorni e tutti i partiti del mondo per avere la gioia di Samenzi, per premare a loro la mano, per avermi e noi per reciprocamente rincontrare e convivare l'amore e l'entusiasmo per l'idea che l'esperantismo in sé havas. Cielo antico e Hebreo e Trifoio in ciuare convena in Jerusalemo, per viagliare in sé l'amore all'idea monoteisma, Cielo nì ciuare convena sen la cef urbo d'esperantoio per viagliare in sé l'amore all'idea esperantisma. Ciai tiu ci estas la cefa essenso, ciai la cefa celo dei miei congressoi. Bone, tiu estas la idea de Samenhoff. Ciai comprenembele citiu, comparo cum la antico e Hebreo estas tre forta, car scainas al miei che Samenhoff volas substrechi la gravezon della interna ideo esperantisma. Ciai li diras, por varmigi la amon ciai entusiasmon por la idea che l'esperantismo in sé havas. En havas, dò. En havas, in la interna. Dò la interna ideo. d'esperanto e l'idea monoteisma dell'antico e Hebreo. Ciai dò, di nuovo estas, flanca aludo, flanca aludo al Hillelismo, cio estis transigianta al l'homaranismo in citiui iaro in 1906-1907, cio ni iam vidis. No, ciu tiu estas ancau por vii. La essenzo che la ciai facelo dei miei congressoi, vigligi la interna ideon, pro tiu ni voyagios cai rincontigios unu cun la aliai. Mi volas inviti vinn cun mediti ciar ec decetiu iaro, per Mondafest, ni devis ansatauigi la universalan congresson per virtuala alternativo, ni diru. Lo ne temas chie la aocasis del 1960 nel caso del congresso pro milito la fama ocasionante congresso in Paris nel 1904, esempio, ma, pro alliachialo, alle flanche la tecnologia permessa di noi iel rincontigi. e mi vidas per ecrano, in evitas reale. Cado, ciò citiu video ancau same activigas nian gioion. Cion ni perdas, cion ni gainas per tiò. Ciò ni successas vigligi la internan ideon virtuale. Comprendeble, citiu citiu demandon mi elstarigas sen rrespondo, car certe Zamenhof ne povintus rrespondi. Prova evidente a cialoi. La tecnologia existis tiam dot tion estas problemo kiiu ne aperas. L'originale vercaro sed, lau mi, ji estas tre actuala. Dopo tio mi invitas ninn ciiu in, cun mediti pretio, cai vidi ciiu vere ni devas pigrimi alla ce furbo l'esperanto ju chiui, ciu shangijijas ciutani, ciuiare, la verda Jerusalemo. Au ne, au suficias al clacim virtualam butonon aperantam sur nii noi, cai tui esti tie. Bene, mi dancas vin, rovi attento. Mi esperas che vi havis felician semenfinon, mi havis, mi devis multe labori por la, por la nova apartamento, do. Mi esas ium latza, sed, negravas. Buonan comenzum de la nova semaino, morgau, cae gis morgau, ciu case, ciel cia, la medito serio ne altas, nenio povas bremsi gin, la ocasajoen de la vivo. Ies, ili existas, sed, niestas pli fortai. Buonan denove, dankon, cae ciel ciam, antauen, sem fine.